Salve a tutti i miei cani di Rimagna Morti Questo video non volevo farlo ora, lo volevo fare ieri sera In realtà, perché sto in fase a godone da ieri sera Non ricordo nemmeno che ora erano Di sicuro avevo staccato dal turno Quindi facciamo che saranno state le 9.20 Le 9.30 Grosso modo, pure qualcosina di meno 9.10 Bene, finalmente hanno droppato le cazzo di date del Termoli Comics & Games Era ora Sono contento come una Pasqua Perché vedo le date coincidono con le ferie che avevo preso E quindi anche quest'anno andremo al Termoli Comics & Games Sono felice come una Pasqua Non vedo l'ora Non vedo l'ora Anche perché l'anno scorso Come già detto nell'altro video Sono andato alla fine Siamo partiti chiaro alle 8 E siamo arrivati Grosso modo che era quasi mezzogiorno O mezzogiorno addirittura Però poi siamo stati quanto 6 ore Manco È stato bello però è stato breve Questa volta invece no No Ci facciamo direttamente Quanto Voglio ricordare le date per chi non lo sapesse 21, 22, 23 di giugno E ovviamente subito ho prenotato l'albergo Non mi ha interessato subito Ah vai albergo Prenotato l'albergo Infatti i prezzi erano bassi Non oso immaginare oggi o domani Che gli albergatori Inizieranno a sapere Che c'hanno un evento del genere Dalle parti Cioè comunque sia lì a Termoli Perché di solito Quando ci sono eventi del genere I prezzi schizzano alle stelle Io fortunato Ho pensato Vabbè l'avranno subito la stanza Non si sa mai E ho fatto bene Tenendo conto Tenendo conto Della zona E del periodo Non andrò a spendere quasi un cazzo E scusatemi il francese E Abbiamo preso L'albergo Dietro Uno Dei punti di culto Nonché dormiremo Anche Uno dei punti di culto Per chi fosse Come dire Affezionato Fan Dei QTSS E Quando ho visto Tra le emozioni Che c'era Questa struttura Dove poterci dormire Ho detto No Qui Subito Non me ne frega niente Che di solito Sono andato sempre Ben billi A Termoli Per una volta Ho detto Andiamo sull'hotel Sti cazzi E Non vedo l'ora Sono Non lo so Non ve lo so spiegare Anche perché Questa volta Saranno tre giorni Me la potrò Un attimino Meglio Forse Farò anche un cosplay Non lo so Devo valutare Perché volevo fare Dylan Dog Però Ho pensato In giugno Sotto al sole Con Giacca Camicia No Bell Ma No Dove pensare A qualcosa Di un po' Più Leggerino Tipo il costume D-Man E E niente Ragazzi Non vedo l'ora Non vedo l'ora Perché Sapete L'amore Che ho Per Termoli Non vedo l'ora Di rimangiarmi La pampanella Con la pizza Non vedo l'ora Di rimangiarmi La zuppetta Col pesce Che fanno lì Non vedo l'ora Di ripassare Dentro Il piccolo Più stretto D'Europa Se non sbaglio Forse pescherò Anche Perché ogni volta Che sono andato A Termoli Almeno un lancio Alla cazzo Perché Sostanzialmente Pescherò sempre Con Le esche Da fiume Non esche Per il mare Quindi va bene Questa volta Ci attrezzeremo Adeguatamente Adeguatamente E poi Poi Spero di Anzi Quest'anno Spero di Beccare Edes L'anno scorso Beccammo Sinergo Quest'anno Appunto Su Redes Non so Chi saranno Gli ospiti Però Sarà bellissimo Lo stesso Ragazzi Se non avete Prenotato Ancora L'albergo Fatelo Perché Di sicuro I prezzi Sanno Non alle stelle Di più Quindi Se volete andare Volete venire Anche voi A Termoli Sbrigate A prenotare Perché Veramente Non so Se avete mai Provato Ad andare A Lucca Comics Ma quando È quel periodo Certe Salassate Che se Ti sparano In petto Fanno Meno male E E niente Ragazzi Questo video Allegorico Goliardico Guto Sico Chiamatelo Come Volete voi Andava fatto Andava fatto Perché Ho aspettato Veramente Quanti giorni 20 giorni Che uscissero sedate Anno 20 giorni Dalla presa In effettivo Delle mie ferie Però Mamma mia Non vedevo l'ora Finalmente Le hanno uscite Le hanno troppate Sedate Sono felicissimo Anche perché Se no Avrei dovuto chiedere Il cambio Delle ferie Della settimana Di ferie Penso che Non sarebbero Stati molto contenti Di ciò Quindi Meno male Meno male Perché Perché ho detto Ragionamento L'anno scorso L'hanno fatto La terza settimana Di giugno Secondo me Useranno ancora Quel pattern Terza settimana Di giugno E speriamo Dio che Ce l'aveva Da buona Non è stato così Se io mi andavo A giocare Una schedina Non l'avrei presa Però Su sedate Così Ho avuto Fortuna Molta fortuna Perché Non lo so È stato Un parto Un parto Potalico Veramente Senza Senza Rimissione Di peccato Perché Ho detto Becco l'età Ho detto Chiedere il cambio In bici Su in bici Ho detto No Speriamo bene Fortunatamente Ci è andata bene E È un posto così È un posto così E Bisogna solo Aspettare Aspettare Siamo a febbraio C'è il 19 Quindi 19 Due giorni E Quanti mesi Di quattro mesi Quattro mesi e due giorni Dobbiamo aspettare Finalmente Però Un conto è aspettare Non sapere le date Un conto è aspettare Sapendo le date Avendo prenotato Già L'albergo Non vedo l'ora Non vedo l'ora Soprattutto per i panini Che faceva Alto mare Mi sembra Che si chiamava Costavano Il giusto Per me Per quante roba Vabbè Basta parlare di cibo Perché veramente Ho parlato solamente di cibo Porco Si va a termine Per il termine Di comics and game Non per il cibo Anche per il cibo Soprattutto per il cibo E comunque ragazzoli Mie cari Magna morti Io Vi saluto E Ci vediamo in un prossimo video Spero Al più presto Spero Di portarvi Quel Quel fatto di cronaca Che ci sto Mezzo lavorando sopra Forse Lo riesco a girare Settimana prossima Non lo so Vediamo E Alla prossima